Una cosa del genere, 45 anni che faccio un mestiere non l'ho visto mai, mai, mai eppure mai. A Giulianova i pescatori protestano per la grande quantità di detriti che a causa delle piene dei fiumi viene scaricato in mare in concomitanza con forti piogge e mareggiate, finendo poi nelle reti durante la pesca distruggendole e provocando danni economici ai marittimi. Per questo motivo sono tornati a chiedere la pulizia dei letti dei fiumi, una problematica che esiste già da tempo, ma che da qualche giorno è diventata emergenza. Il gran quantitativo di questi rifiuti come legno e plastica hanno già danneggiato diverse reti di alcuni marinai appartenenti alla piccola pesca. Oltre al problema dei rifiuti, i pescatori, e non solo, protestano per la questione del dragaggio al porto, visto che il fenomeno dell'insabbiamento sta minacciando sempre di più la sicurezza degli approdi. Molta gente ha ricevuto danni anche in gente di monete, plastica, legna, qualsiasi cosa sulle reti. Logicamente noi non ammettiamo, molte volte abbiamo fatto io e noi come cogeo, con l'ambiente, abbiamo fatto della raccolta di plastica sulla riva del mare, e ci si ritrova in un momento come questo, abbiamo tonnellate di plastica sulla riva, sulle reti. Questo secondo me non va bene, non è un modo di gestire l'asso fluviale. Ringraziamo la Guardia Costiera che è sempre attenta ai problemi, ci segue, ci tutela, perché noi logicamente siamo l'infermo biologico delle vongole, siamo tutelati dal reparto ambientale della Guardia Costiera, però i fiumi non sono a posto. Questo è un grido che io da vent'anni, sono più di vent'anni che grido che i fiumi non sono a posto, e tuttora non sono ancora a posto. Bisogna capire da chi dipende, poi dicono, i pescatori sono sempre additati, additati. A questo punto abbiamo visto che i pescatori sono delle vittime, i pescatori siamo vittime dell'inguranza fluviale. Chiediamo più attenzione agli assi fluviali, ai fiumi, più attenzione sui fiumi, dalle amministrazioni comunali del territorio, della provincia e della regione. Questo chiediamo.